Sì, si può scendere! Non è? Allora, a quante va? Dai, fatti! Non è pronto da prendere la proposta, non è riuscita! Allora, adesso spero, non vado in fare! Allora, guarda un video! Vai, che non va? Oh, guarda un video! Vai, che non va! Visto! No, non va! Visto! Visto l'aiuto! Allora, a tutti! Visto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.